ciao a tutti vi presento la free thinker una delle nuove tavole della collezione 2017 2018 tavola molto performante un classico camber twin puro quindi un po all'impronta all'indirizzo da park anche se ovviamente essendo una tavola camber la possiamo utilizzare in qualsiasi condizione sostituisce per i curiosi un po la easy living la custom twin tavole che non si trovano più nella nuova collezione ma facevano parte della scorsa e per concludere anche una soletta molto bella e veloce sinterizzata vfo free thinker 2017 2018 grazie a tutti